Ti sei mai fatta riempire il lato B da più di una persona in una volta? Sì. Oh la madonna! Allora in tre, in tre, in tre. Sì, in tre che hanno finito nel lato B. Cosa dice? Sono un troione, sono un troione! E la cosa bella è che se uno finisce, non è che la persona dietro fa Uh, ha finito lì, vado da un'altra parte. No, continua. Molti dicono sempre prima, oddio, io non vorrei mai trovarmi in una situazione con un altro uomo Non vorrei mai che il mio affare toccasse l'affare di un altro Send il pesce E poi però quando sono sul momento, ce lo scordano completamente e vanno avanti La gradisco Allora, la miglior posizione, secondo me è il terzo Allora, il primo deve un attimino rompere il ghiaccio Sì, è il riscaldamento Fa troppo freddo Armadook! Il secondo trova già la via un po' aperta Però tutto il latte del primo Ti mandare dalla mamma A prendere il latte In realtà, dopo due, il latte esce e il terzo trova la via comoda e è già tutto libero Quindi secondo me è la posizione più fortunata il terzo Il inter è una buona dose Acqua e olio, tutto a posto? Allora, tutto a posto?